Amici di Passione Tennis e No More Negative, la frase che disse Federer a Fognini durante la Lever Cup dell'anno scorso, quindi penso che come frase di apertura dei miei video su questo canale userò una frase di Federer. E niente, allora facciamo un breve riepilogo della situazione. Siccome molti nello scorso video mi avete chiesto di parlare di Sinner, eccoci qua, parliamo sia di Sinner e un po' delle ragazze italiane, sennò sembra che discriminiamo un po'. Allora Sinner purtroppo ha perso in 3-7 da Benoit Per, ma è una sconfitta che ci sta per probabilmente il miglior rovescio a due mani del circuito, mi piace molto come giocatore, soprattutto per queste rovescio a due mani che addirittura lui si sposta dalla parte del rovescio anche anziché giocare il dritto, quindi è un colpo su cui si sente giustamente molto sicuro. Mi sembra che lui è ambidestro che scriva con la sinistra, quindi proprio è il suo colpo. Un giocatore che nel corso del tempo ha fatto vedere che può battere gente molto forte, è un po' discontinuo altrimenti sarebbe molto più avanti in classifica. Sinner mi sembra che abbia cambiato racchetta, ora non so se è solo il colore o o anche il piatto cordo altre cose cambi, ha cambiato, quindi non so, forse si deve anche un attimo abituare a questa racchetta. Comunque Sinner vediamo cosa combinerà insomma agli Australian Open che a previniziano. Che dire, a me piace molto Sinner, attualmente è il giocatore italiano giovane su cui puntare, gioca molto sciolto, ha giocato in maniera incredibile le next gen ATP, le finance next gen ATP, e la cosa che mi ha stupito, a parte che gioca molto sciolto, senza paura, è che ogni volta che c'era il design point, su 40 pari, lui serviva, faceva o servizio vincente o servizio dritto vincente, cioè incredibile. Questa è una caratteristica che secondo me hanno solo i grandi giocatori, tipo Federer. e speriamo bene, speriamo, tutti ci contiamo che possa diventare fortissimo insomma. Ovviamente non bisogna mettere fretta a questo ragazzo, piano piano vediamo cosa fa. E quindi soprattutto a parte le caratteristiche tecniche, mi sembra che abbia anche una testa, una buona testa, vediamo un attimo, quindi una bella mentalità. Vediamo invece alle ragazze, me lo sono scritto per non sbagliare, quindi le ragazze parteciperanno alla Fed Cup 2020, però per arrivare a payoff. Quindi il girone è Italia, Estonia, Austria e Grecia e si giocherà Tallinn, che è la capitale dell'Estonia, dal 5 all'8 febbraio, probabilmente sul veloce. Chi esce prima dal girone incontra la seconda dell'altra, e le vincente avranno i pass per i play-off. È dura, è dura. Però ecco volevo parlare appunto della gocciaretto che ha vinto il primo turno delle qualificazioni dell'Australiana Open, sta facendo dei bei passi da gigante, classe 2001, come Sinner. E quindi speriamo che, cioè bisogna puntare su questa giocatrice, speriamo, speriamo, possa fare bene già in Australia e arrivare bella carica per giocare la Fed Cup, insomma. E niente, altre cose, c'è Lorenzo Musetti che giustamente dopo aver vinto l'anno scorso l'Australian Open Juniors ha ricevuto una wildcard per giocare le qualificazioni, ma non ancora gioca un turno. Quindi vediamo cosa combinerà anche Musetti. E niente, questo video finisce qui, e ci vediamo un prossimo video. Iscrivetevi al canale e lasciate like se vi è piaciuto questo video. Ciao!